Vorrei dare la parola al TV Beber, il segretario confederale della CEST, della confederazione europea, la Cati. Grazie Stefania, posso parlare italiano? Vado un po' la vostra bella lingua, però su questo tema preferisco di parlare e di fare la presentazione in inglese. Io sono francese, quindi devo parlare in diversi lingui, ma è europea. Per prima, voglio darvi un'opportunità di benvenire a te qui in questo internazionale trading house, dove l'INSTQC è base, insieme alla nostra internazionale trading confederazione, l'ITUC, l'internazionale trading confederazione e l'europea trading confederazione, e quindi le seguire le selle italiane. In Europa, in Europa, in Europa, qui è sempre a base qui in questo internazionale, l'industria, per esempio, o altre tradizioni, le sue gruppi e le federa sono roma. A un tema di questo, è molto importante, e abbiamo discutere ora di questo momento, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.